Il ruolo di regista di una serie? Intanto per me è stata una grandissima opportunità, ho fatto solo un film, ho 36 anni ed era un film anche per certi versi non commerciale e quindi l'idea di essere stato chiamato per dare la mia visione a questa serie è stata intrigante nel senso che quindi non volevano una cosa già che avesse delle formule o delle cose già viste e io ho conosciuto i Grams fin dall'inizio, già come Isabella anche abbiamo già lavorato e adesso ho visto Baby che erano tre pagine e in dieci mesi sono diventate sei episodi e quindi diciamo che è stato un processo molto intenso e anche oggi condividerlo con i ragazzi che poi loro sono la serie, loro sono l'anima di questo spettacolo diciamo che è anche vederlo con Anna che ha dato poi la sua visione e il suo punto di vista femminile quindi ecco fare una serie non è soltanto una cosa che fa parte di un singolo regista ma fa parte di un gruppo e penso che sia un gruppo con cui mi sono trovato molto bene Grazie Andrea